Ciao! In questo video parliamo di due distribuzioni made in Italy, entrambe lombarde su cui non avevamo ancora approfondito, Modicia OS e Ufficio Zero Linux. Totte e due fanno in realtà parte della famiglia Debian nel senso che derivano o da Debian stessa oppure da sue a loro volta derivate. In altri video ci siamo soffermati su una terza distro sempre sviluppata in Italia, OpenMamba, e dunque nel corso di questo focus cercheremo anche di capire quali sono le differenze e gli obiettivi di questi due progetti rispetto ad essa. Modicia ha una spiccata vocazione multimediale e l'omonima azienda che la porta avanti è iscritta al registro delle imprese fin dal 1998, occupandosi di clienti professionali ed istituzioni educative fornendo loro sistemi operativi per uso desktop facili e completi. Fino al 2016 Modicia era basata su Debian, mentre tra il 2017 ed il 2023 su Ubuntu LTS, dal 2024 è tornata completamente solo sul ramo stable di Debian, e viene offerta in due versioni, una commerciale con download a pagamento ed una comunitaria completamente gratuita. L'idea alla base di Modicia è quella di offrire una stazione multimediale completa che possa permettere di produrre con successo progetti professionali sia nel campo cinematografico che quello musicale, in quello fotografico e via discorrendo. Il tutto senza installare software aggiuntivo rispetto a quanto già fornito fin dal primo avvio post installazione, o uso live tramite chiavetta USB. Non ci sono programmi duplicati, tutto è testato e funzionante e non vengono inseriti programmi che richiedono abbonamenti. Precaricati ci sono solo software free. Tra le peculiarità di QuestOS, tutte le suddette app multimediali preinstallate sono anche già configurate con tutti i plug-in disponibili, sono ordinate in menu tematici e sono disponibili in più lingue. Ma soprattutto, dato il target, precaricata c'è una utility che permette di installare con un solo clic il kernel RTK, cioè real-time. E poi, un altro tool permette di aggiungere il proprio utente al gruppo RTK per poterlo usare. Non manca neppure lo strumento per configurare grab in modo da poter impostare tale kernel per l'avvio predefinito. Visto che Modicia è basata su Debian senza modifiche ai suoi repo o stranezze di alcun genere, il sistema riceve aggiornamenti regolari di sicurezza e per le app al pari di Debian stable. In più, sono abilitati i backports con attivo il kernel più recente backportato, il che non è male. Ovviamente è sempre possibile accedere e scaricare qualsiasi pacchetto presente sugli sconfinati repo di Debian, nonché installare qualsiasi file deb. E poi, Modicia integra anche un secondo app center che consente di navigare tra le più famose app image disponibili online, tutte categorizzate e pronte al download sul disco per poter essere utilizzate. Modicia è anche ottimizzata e plasmata per l'uso didattico, con precaricato software per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, software compatibile con le direttive MIUR. Infatti, questo sistema operativo è stato anche utilizzato con successo in alcune scuole del Nord Italia, nelle rispettive aule informatiche e per le prove in valsi. Ufficio Zero Linux, invece, è un OS ideato dall'azienda SightSRLS la quale ha acquisito lo storico dominio e mette a disposizione del team di sviluppo vari server per ospitare servizi web, mail, repository e server di condivisione. Il sistema risultante si rivolge a liberi professionisti, partite IVA, enti privati e statali, oppure scuole che vogliono utilizzare un sistema operativo gratuito, utile e di facile comprensione, ed ovviamente può essere utilizzato anche in ambito domestico. A differenza di Modicia, UZL, acronimo del progetto, arriva in più versioni, tutte gratuite, con però basi differenti. In generale ci sono 2-3 filoni principali, quello a rilasci cadenzati nel tempo, quello rolling e una base minimal. Ognuno di questi filoni però offre a sua volta più scelte. Le distro point release sono UZL11 per PC a 32 bit, basata su LMDE 6 e con Cinnamon per ambiente desktop con precaricato un tema che riprende il look di Windows 11. UZL11 per PC a 64 bit, basata invece su Linux Mint 21.x, sempre con lo stesso ambiente desktop a tema. Partendo da Mint, offre anche a sua volta edizioni con XFCE e MATE. Poi c'è UZL10 Plus, nuovamente basata su LMDE 6, sia per PC a 32 che a 64 bit con ambiente desktop MATE e tema simile Windows 10. La distro rolling è chiamata UZL Cagliari, disponibile solo per PC a 64 bit, è basata su PC Linux OS ed ha come ambiente desktop KDE Plasma 5. La versione minimal è in lavorazione e sarà basata su D1. A fine ciclo vitale, quindi non è particolarmente consigliato l'uso, ci sono UZL Tropea per PC a 64 bit, basata su Linux Mint 20.x e desktop MATE, e UZL Portofino per PC a 32 bit, basata su D1 4, sempre con desktop MATE. Avendo una struttura così intricata e un po' confusionaria, ci sono anche un bel po' di differenze tra le varie versioni dell'OS. In generale, ogni variante è equipaggiata con un parco software completo e quindi sono tutte pronte all'uso, basta installarle ed è possibile utilizzare il PC senza dover aggiungere alcune applicazioni dagli store. Però, appunto, derivando da distro diverse e o da versioni differenti delle medesime distro, possono esserci delle difformità di varia natura. Ad esempio, UZL Cagliari utilizza APT e Synaptic per la gestione dei pacchetti, tuttavia quelli utilizzati sono in formato RPM, visto che la base è PC Linux OS. Poi, come anticipato, il sistema segue un ciclo di rilasci rolling, per cui una volta installato avanza nel tempo senza richiedere upgrade corposi di tanto in tanto, e questo può anche portare a grandi cambiamenti improvvisi o incastri che richiedono l'intervento dell'utilizzatore. È dunque una variante che è consigliata a chi ha un po' di dimestichezza in ambito Linux. Le versioni 11 e 10 Plus, invece, usano anch'esse APT e Synaptic per aggiungere applicazioni extra, ma vista la base Mint e LMDE dispongono anche dello store sviluppato da Linux Mint stessa che è molto più semplice da usare per i meno esperti. E poi i pacchetti sono chiaramente in formato DEB. Inoltre, soprattutto in UZL 11A64bit che ha base Mint a sua volta derivata da Ubuntu, il riconoscimento hardware e le configurazioni possono essere fatte con maggiore flessibilità rispetto alle varianti LMDE, pertanto tale versione è ancor di più consigliata ai neofiti o a chi vuole passare da Windows. In ogni caso, in aggiunta ai repo base, UZL offre anche repository aggiuntivi con i driver di molte stampanti a getto d'inchiostro, lasere e multifunzioni che si aggiungono a quelli presenti su repo Debian, Ubuntu, Mint, Dewan, Pitch Linux OS, il che non è male considerando il target a cui mira. Ufficio Zero Linux più che una singola distro è una famiglia di più distribuzioni per uso domestico, scolastico o d'ufficio, rivolta specialmente a chi vuole fare il passaggio da OS proprietari al mondo Linux, magari per continuare a tenere in vita hardware non più recentissimo ma ancora perfettamente funzionante. Anzi, il team che segue lo sviluppo di quest'OS è anche impegnato per il sociale ed è sempre alla ricerca di donazioni di hardware usato affinché possa essere sistemato per tornare operativo e poi distribuito in parrocchie, luoghi di ritrovo o di scambio culturale. Sul sito del progetto ci sono tutte le informazioni del caso. Già da questa veloce panoramica è facile capire che sia Modicia sia UZL differiscono tantissimo da OpenMamba. In primis perché quest'ultima è completamente indipendente, non deriva da nessun altra distro ed ha propri repository e segue un ciclo di rilasci rolling, mentre le altre due ruotano principalmente attorno a Debian con rilasci cadenzati nel tempo. Poi Modicia ed UZL fanno uso di pacchetti DEB. A parte UZL Cagliari che viaggia con Pitch Linux OS scelto probabilmente perché uno dei maintainer di questa distro lavora anche sull'altra e che è anche rolling, mentre OpenMamba usa pacchetti RPM. Altra differenza sta negli ambienti desktop e librerie integrati. Modicia ed UZL usano DE come Cinnamon, XFCE o Mate che sono basati sulle GTK, mentre OpenMamba usa KDE Plasma 6 ed è legato alle QT. Infine, i tre progetti hanno chiaramente target diversi, seppur per ovvi motivi si incrocino tra loro. Modicia punta agli utenti professionisti, anche con proposte commerciali e supporto a pagamento, e o in generale a chi fa largo uso di applicativi multimediali, oppure per uso scolastico. UZL è rivolta invece all'uso d'ufficio o domestico, con comunque una operatività generica a 360 gradi. Sia la prima che la seconda distro arrivano con un parco di app bello ampio già preinstallato. OpenMamba invece è quella più minimale, pulita, senza fronzoli o personalizzazioni del caso, e può essere plasmata per essere utilizzata per qualsiasi uso, purché sia l'utente a personalizzarla con il software di cui ha bisogno, che sia un server, una workstation, un PC domestico, persino un Raspberry Pi oppure un tablet. Ma per maggiori dettagli su OpenMamba si rimanda ai focus ad essa dedicati che sono linkati in descrizione e tra le schede di questo video. Sebbene Modicia ed UZL si perdano un po' nel mare magnum di derivate, o persino derivate di derivate di derivate, dato che alla fine sono le classiche Debian, Ubuntu, Mint con app, temi e altro software precaricato, possono comunque avere senso per chi cerca supporto in lingua italiana, oppure un sistema pronto all'uso con un look and feel simile ad altri OS commerciali. OpenMamba chiaramente è un mondo a parte e forse richiede qualche conoscenza in più per poter essere utilizzata a fondo. Tu che ne pensi? Ti ispirano queste distro made in Italy? Ti aspetto nei commenti. Nei prossimi giorni arriveranno nuovi video su altre distribuzioni? Se questo ti è piaciuto iscriviti al canale e soprattutto fammi sapere nei commenti se preferisci i progetti che partono da basi già consolidate, ad esempio Debian e distroffini, oppure se ritieni abbiano qualcosa in più da dire quelli che partono da zero con una propria filosofia e repositori indipendenti. Se hai richieste riguardo altri OS Linux-based per cui vorresti vedere un video dedicato, non esitare a farmelo sapere con un commento qui sotto. È tutto per questa puntata, a presto! Grazie per la visione!